Ciao a tutti ed eccoci in Mario e Luigi, Paper Jam Bros, continuiamo a cercare questi Todd di Carta Ghiaccioli di Todd di Carta, salvataggio montano, partiamo con i ghiaccioli di Todd di Carta I Todd di Carta si sono nascosti nel villaggio, trovali prima che si congelino Andiamo a cercare i Todd di Carta Pronti via, ok, ma un tempo, ah no, un tempo, quindi andiamo a cercherli Oh, qui c'è qualcosa, sono lassù in cima, allora proviamo un attimino Allora, fare così Vieno mi dall'aereo, allora proverò a tirare la martellata all'albero per dargli una scossa Martellata, grazie Ed eccolo lì il puntale di Carta Ottimo, sono venuto con il solo intento di nascondermi Va bene, il primo Todd di Carta su 12 Yes, proseguiamo, andiamo a cercare Cerchiamo, cerchiamo Vediamo se c'è qualcosa Ah, qui l'avevo vista, ok Aspetta, avevo visto qualcosa di qua? No Ah sì, invece, nell'albero mi sembra di aver intravisto qualche cosa Via, 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 Todd, via, via Eccolo lì, ancora martellata Oh, un Todd verde a noi Cioè, quelle foglie lì pungono Guarda come sono stropicciato Non vedo l'ora di tornare a casa a stirarmi un po' Ciao, Todd di Carta Mi mancano solo 10 a mappa, che sono sempre tanti Io dovrei, così, senza saperne leggere e scrivere Provo a dare un colpo anche qui Niente, non vedevo niente Magari, cioè, si nascondeva qualcosa Va bene, proseguiamo Andiamo di qua in quest'altra zona Ok, qui, vai Diamo colpi a destra e a sinistra Vediamo se qua sopra c'è qualche cosa Mi sembra di no Quindi, niente Qui si nasconde qualcosa? No E qui? Io non vedo proprio niente Vediamo Mi sentite qualcosa a voi? Mi sembra di no La situazione è un po' critica Perché, forse di qua Entriamo in casa qui e passiamo dietro Di qua, no, quindi si può passare Di qua, niente Quindi, sono per forza qua Quindi, dobbiamo cercare Magari sono sotto terra Stiamo attenti Ma guarda che Proviamo ad entrare nelle case Proviamo Allora Non mi sembra ci sia nulla E allora, torniamo fuori Questa casa qui non c'è niente Dovamo entrare qui Ah, è qui, qui Ho detto qui Eccolo lì, uno E vai E siamo a tre Bene E insomma, nove Sono sempre alti I numeri da cercare Eh, qui posso tirargli la martellata No, è tutto bloccato qui Sì Gioca tutto qua Eccolo qui uno Era nascosto Ok, e siamo a quattro Ok, e siamo a quattro Otto Sempre tanti Finché non arrivo a cinque Per me Sono sempre tanti In questo momento Entriamo in questa casuccia Non vedo assolutamente niente 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 Retorniamo fuori Dove potrebbero essere? E qui Qui sono tutti in fine Non è che mi fate Chiacchieriamo Che avevo visto Uno che lasciava E l'acchietto Si dirigeva Verso il negozio Di capaggiamento Uno che si dirigeva Dalle parti del negozio Di strumenti E ne ho visto Uno è andato Nel negozio di strumenti E al negozio di carte Giusto? Credo di aver visto Uno che si dirigeva Dietro uno Dei negozi Uno dietro Dei negozi Questi mi hanno Dato un po' di indicazioni Vediamo qua E uno è qui Ah, uno è anche Tra le porte Qui giocava una palla Con uno toto di carta Cinque Cinque Qui c'è un altro Sei E insomma Non era un gran nascondiglio Sei Ok E qui c'è un sei Proseguiamo Sono nascosti Quindi Mille cari Ritorniamo qua A vedere Diamo un colpo a questo Non si sa mai Non c'era niente Proseguiamo 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 Vediamo tutti Qui c'è l'entrata Sì Però non l'avevo osservato Bene Vediamo C'è qualcosa No Niente Mi sembra niente Qui Toddy Kite Allora Risentiamo un attimino Credo di aver visto Uno che si diceva Dietro uno dei negozi Dietro uno dei negozi Dietro uno dei negozi Dov'è che posso passare Qui dietro forse Niente Qui non ci posso andare Di qua Eccolo qui Sì E Mamma mia Quanti sono Due Quattro Quindi me ne mancano due Ottimo Bene Due Qui niente Se ci sono Lo ci riprovo Anche di qua Niente Qua dietro Aspetta un attimo Niente No ci posso passare Di qua Questo l'avevo fatto Però di negozi Aspetta Andiamo a cercare L'altro suggerimento Sentiamo un po' Avete guardato Dappertutto Dio proprio Dappertutto Ci prendono anche In giro Sentiamo altri suggerimenti E vai Li avete trovati Sì però Ce l'avete fatto Ottimo lavoro No ma Mi manca uno No Mi manca Mi mancano due Scusate Non è che Ho trovato quelli dietro Però non ho trovato Mannaggia Qui non ci Sono altri suggerimenti Mancano due Mancano due Dove potrebbero essere Io ho provato A tirare la martellata Ma niente Niente Allora dai Provo A parte che Niente Malefici Questi ultimi due Toad Dove si saranno Nascondendo Allora Riproviamo Rientriamo qui Non li vedo Non li vedo Ok Quindi Quindi Dei loro Mi facevano Di carta Più Così Ok Questa L'avevamo trovato Santa Pazienza Anche questo L'avevo Osservato Mi sembra Deve essere stato Un bello Shop per Quelle creaturine Più belle Nostro Mondo Va bene E niente Non c'è niente Nemmeno qua Qua Non vedo Assolutamente Niente Ho detto che Si nasconderanno Gli ultimi due Alcuni loro Sono molto creativi Lo so Uno era tra gli alberi E l'ho preso Un altro era tra i rami di qua E l'ho preso Ma a terra c'è nulla Qualche A terra Non vedo Niente Quadri Questi L'avevo Visti Erano Due Uno ci Giava carte E uno Qui ci Sono fiori Ma non È nulla Oh ma Guarda Mi fa storiare Questi ultimi due Mi fanno storiare Dobbiamo andare sotto Da qualche parte Niente Niente Dove Caspiteruccia C'era Qui non posso Fai niente Niente Posso creare botte Questa è bella Questa l'avevo guardato Vero sì Sì al centro L'acchi Niente Eccolo qui uno Ce l'ha qua sotto Ed eccolo qua E ne manca solo uno Aspetta Mi è rimasto solo uno Mamma mia L'ultimo È veramente Difficile Di qua Ruggiamo la vista Mi manca solo uno Dove potrebbe essere Vediamo No Questa l'avevo provata La manata Nella parte Questa non ci posso andare Assolutamente Perché c'è legno Qui niente Le pupazioni di neve Non c'è niente Oh ma guardate Come mi fa storiare Questo Tod di carta qua Stavo guardando I cartelloni Come è successo Nel primo Allora qui Niente Qui niente Qui niente Un giro là dietro Guarda È malefico Forte questo Tod Dove potrebbe essersi Nascosto Qua dietro Ci posso andare No Dov'è l'unica casa Allora qui Qui ci ho trovato Qualcosa Sì L'unico negozio Dove non ho trovato Non mi ricordo Qual è Sì è questo Voglio guzzare la vista Vediamo un po' Io non li vedo proprio No Secondo me è proprio Nascosto dentro un negozio Non è possibile Quello delle carte Perché quello Dei l'acchi Tu ho visto Come era bello Nascosto Sotto la nuvola Non si vedeva C'è qualcosa Potrei tirare La martellata Vediamo un po' A terra Niente Allora proviamo Da di qua Io provo a tirare La martellata Niente 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 di niente Non mi può aiutare Proprio non si intravede niente Non è possibile Non è possibile Che qua non ci sia Non è possibile Non si provo a fare così Anche se non vedo Aspetta Magari è Perché Non lo so Niente Niente Non c'è niente Stavo guardando in cima All'albero Se c'era qualcosa Assolutamente niente Mi sta facendo Proprio Impazzire Questo Toddy Cut Qua No Ce l'avete fatto Erano per quelli Dietro C'è qualcosa Magari è toccata Nel muro Eccolo lì No ragazzi Guardate dov'è Ragazzi E non lo vedevo No Dandy Mi avete trovato Prima che il vento Di montagna Vai vai Ci hai fatto storiare Caro mio amico Qua Ok Ottimo Non c'ho Nella freccia Del computer Che si era messa davanti Ok Andiamo Avantissimo E andiamo a fare Una nuova gara Così abbiamo finiti tutti Salva Saggio Montagna Toddycut Se sono in periodo Sparsi Per la montagna Riuscire a salvare tutti Ci proviamo Speriamo che non ci facciano storiare Come Quelli di adesso Oh Come mai sono tutti L'importante è che non si attende Così Allora Ho visto qualcosa qua Ancora Ed ecco Le qua Uno Quanti c'hanno da prendere Solo 14 Sono di più Anche queste Vediamo Intanto Di cercare Le martellate A due Tutte La moneta Perfetto Martellate a tutto Spiano Visto che ci danno Anche monete Quindi Ok Ok Bene Monete Anche qua Veniamo qua sotto Venete Bene Andiamo Proseguiamo Nella nostra Avventura La nostra La nostra Lucio Erka Soprattutto Allora Ok Prendiamo Non è bloccato L'aeroplano No di qua Sbagliate Aspetta Però potremmo fare Aspetta Aspetta Forse ho capito Da qua Vale Preso Il secondo Toddy Carter Vai A noi Due Dai Ne mancano solo 12 A me Ci sono sempre Tantissimi Ok Poi sono sempre Gli ultimi Quelli che ci fanno Striare Ovvia Vai Passiamo di qua E cerchiamo Andiamo Sottoterra Cosa c'è Sottoterra Vedo qualcosa Mi si muove là Vale Preso Anche questo Benissimo Se stavi congelando Che cosa sei nascosto A fare Sottoterra Tre Ancora Trevegliamo Qua Ulla Mi si riascia Mi Monetina Monetina Ok Andiamo di qua Qua non c'è nient'altro Ok Saliamo Saliamo Andiamo all'albero Niente Non c'è Niente Non ci sono Aiuto Aspetta Non ci sono puntali Come prima di carta Ok Qua non posso andarci Quindi Allora Intanto Saliamo Con la tribella Sì Ok Attenzione Attenzione Mi vedo uno No Mannaggia Misericchio Dai ancora Riprendiamo Il ritmo Ok Seguire 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 No 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 Non seguire Non seguire Mi ero incartata Vai 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 Ok Vai 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 No Mannaggia Ok Quanto ci starò A passare questo punto Lo scoprieremo Soltanto giocando Yes Ok Ce la posso fare Ce la posso fare Ma perché mi incarto così Chi la dura La vince Olè Basta avere un attimino Di pazienza Ok E siamo a quattro Ottimo C'è qualcosa qua C'è qualcosa qua Aiuto Ehi Oh ma che cosa stai facendo Mi stai sparando Quassù però c'è qualcosa Vedo un'ombra Ok cambiamo subito Vai 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 Va via eh Avresti rotto eh Ma se io faccio così Oh ecco Era così che volevo fare Perfetto Saliamo saliamo Quindi da una frega Di nuovo C'è quello che spara Le bombe Ah si Allora aspetta Oh Ottimo Allora Leviamoci questo Perché adesso devo Accelerare Accelerare Che botta Via 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 Ok Qualcuno fermi la giostra Voglio scendere Ok mano Ale Preso E siamo al numero Quattro Andiamo Olè Cinque 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 Martellata Con Con Kelma Fiorellini Aereo Planino Ok E siamo anche qua su E qui Ah da qua Da qua Da qua Da qua Aereo plano Oppure mano Vediamo un po' Benissimo Era la mano Siamo otto Qui c'è altra roba Mi sembra Bene Proseguiamo Andiamo qua sopra Ah qui Lei ha il plano Ci vuole Sì sì Non sento Ok Forse è meglio Partire la dirà Vediamo Ok E Mario 8 9 10 11 12 13 14 Ok Con questo Devremo finire Quindi Ok Vediamo Bisogna essere Subito Mamma mia Che fortuna Il primo colpo Questa volta Ce l'ho fatto Questa volta Sono stati veloci Rispetto alla ricerca precedente Ottimo Ok Nuova carta Pesca da tre carte Sì sì Abbiamo finito Finalmente 1 2 3 Prova I tol di carta Vieteranno a creare Una strada Pene A castello di Bose Sarà come vedere Una pila di tol di carta Che sale verso il cielo Ok I tol l'ho letto di nuovo Ma l'ho presi tutti Comunque No no Non lo voglio sentire di nuovo Ma io l'ho presi tutti I tol Io sono convinta Di averli presi tutti I tol di carta Andiamo qua Beh La buona notizia È che ho dovuto indire È cattiva È che mi hanno licenziato Di nuovo Ho confuso le fotocopatrici Con i 3 adomi Ma Accipicchi Allora Fammi vedere Menu Collezione Blocchi Tol di carta Vediamo un po' 44 di 80 Ma come 44 di 80 Ma non gli bastano A tua detto Per fare Penso di sì Poi benissimo Dopo aver ricercato Ok no Devo passare di qua Vado davanti alla porta Così Andiamo Andiamo Velocità Vi porto Da qualche volta Ok Allora Qui davanti Io salvo Spero che Tu ho detto Di siano Bastati I tol di carta Che ho trovato Adesso Io vi saluto Spero che Vi sia piaciuto il video Se così è stato Mi raccomando Mettete un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Benissimo Adesso un bacione a tutti Ciao Adesso un bacione a tutti Adesso un bacione a tutti